invece questo 2009 siamo sugli off di Sondogna, due tizi e piper, sotto c'è la valdogna l'off di Mezegnot, Malga di Sondogna la Varsaisera, la cima dei cacciatori, le Alpi Giulie, il Gran Bois, gli Off-Art, le Cime Castrain, sotto c'è l'alta Spragna i Buins, e questo è il Montasio, un po' coperto dalle Nubi la Torre delle Genziane, il Cimone, la Valdogna il Zuc del Bor, lo Schenone, la Croce di Vetta e Silvia ciao